E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Oggi ragazzi siamo qua tornati su HeadBall2 Un bel bel gioco simile ad IceCocker Che io vi invito a scaricare nel PlayStore Abbiamo perso due posizioni perché non hanno giocato Allora iniziamo subito il primo match Allora vediamo Siamo contro Lui che ne ha perso tre Ne ha vinta una e ne ha pareggiata una Vediamo un po' Io sono un lui Lui l'altro invece Ok iniziato il match raga Vediamo un po' che dobbiamo A combinare Allora c'è questo che E' forte secondo me Mai c'è sottovalutare nessuno Ha fatto quattro punti credo Non ho un'idea Ma dovrebbe essere così Perché ha fatto una vittura Un pareggio E tre sconfitte Quindi subito segniamo ragazzi Ah l'unico un geno Non si evitava un gran game E c'è subito la rete nel 2-0 Ok proviamo Niente 1-2 Accorciato Le distanze Purtroppo ragazzi Su questo gioco sono abbastanza nabbi 3-2 Facile Vediamo un po' se riusciamo a No Riproviamo Allora Allora Niente 40 secondi al termine Sempre 2-3 per noi Traversa incredibile Allora Riprova Niente Bucio Le fortuna Lavoroso Per non dire Altro 4-3 Non mi è portato Ovviamente Non fate cosa Non fate cosa Per favore Ok 4-4 Bella partita Mangano ancora 22 secondi No 4-5 E niente 4-5 E niente Vediamo un po' cosa Riusciamo a combinare Devo del professionista Abbiamo vinto Per 4 Reti A 5 Andiamo al tredicesimo E siamo A 12 Esimi Raga No Pubblicità No Grazie Ok Hanno vinto E riusciamo subito Nella home Ok Vediamo Vediamo questo E questo Rigiuchiamo ancora Anzi Così Sprechiamo meno tempo Siamo contro Stavolta Lui Che è venuto tutto Dai Io invece Invece ne ho pareggiato Solamente una E' un po' cosa Che lasciamo combinare Vediamo No E' un po' cosa 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 2 Ma 0 per noi Proviamo 3 a 0 La stiamo dominando Ma le prime partite Sono abbastanza easy 4 a 0 Perci troppi problemi Troppi problemi Voce Imbarazante Cringe Fratelli Per me 5 a 0 5 a 1 Gol di riconoscimento Diciamo Alla prossima Sì Un po' cosa Sì Un po' cosa Sì Un po' cosa e ragazzi siamo 5 a 5 scusate ma sono anche impegnato che tra poco devo andare 5 a 6 ok ottimo ovviamente non lo carico dopo aver finito questo video subito perché sennò non lo guarderebbe nessuno visto che non ha caricato un altro di pesce vediamo proviamo a usare un potere contro lui ok lo ghiacciamo è servito perché siamo il gol dell'8 a 5 ed è praticamente finita il pallone non entra e allora vinciamo ragazzi vediamo intanto ok otteniamo 40 cm abbiamo il pieno dei diamanti allora ah no non dobbiamo pagare per riscattare 5 cm per la legge di uno stadio abbiamo sblocato anche il nuovo stadio gg e allora niente facciamoci un'altra partita sinceramente ho chiarito veramente poco questo video ma sono anche abbastanza impegnato quindi faccio l'ultima e vi saluto allora siamo contro lui che ne ha vinte tutte ok la partita è iniziata ma magari non andiamo congelare subito no non è assolutamente la mossa giusta da fare segniamo subito il gol dell'1 a 0 lui ci congela ma serve 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 gg ok via un po' traversa piena un 2 1 per fortuna segniamo il gol che vale il 21 niente 22 non siamo riusciti a segnare 3 a 2 2 per noi ma c'è da facile vediamo un po' 4 a 2 ogni altro gol da parte nostra tra 4 disattenzione ovviamente mia ovviamente 3 a 5 ancora 50 secondi a termine cerca e poi vi saluto ok congeliamolo e sono 3 a 6 siamo 3 a 6 per noi comunque da 46 secondi a disposizione gol suo in realtà autogol rischiamo qua sono super potenti e non ha servito niente non c'è gol niente da parte sua niente da parte mia aia ok niente allora no 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 c'è un ma sai che partita di lato bellissima partita provando a fare quello che posso niente non contate ripeto la mia nottezza gol del 100 7 a 5 proviamo raga ok attenzione perché c'è lui 14 13 12 11 gol 10 9 gol su attenzione perché la partita è aperta 7 6 provo a uscire 5 4 3 2 1 abbiamo vinto signori 8 a 6 parziale ottimo così e raga io vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani bella per questa pubblicità chiudiamo in bellezza proprio ciao